Misurare la temperatura, osservare la gola, auscultare il battito, verificare il respiro e altro ancora. Tutte cose che fino a pochi anni fa era impossibile pensare di poter fare senza la presenza fisica di un medico e che oggi, grazie agli ultimi ritrovati tecnologici, si possono fare evitando, per casi non urgenti ovviamente, di recarsi in ospedale in un periodo di emergenza, moltiplicando così le occasioni di contagio. Va in questa direzione il progetto di telemedicina pediatrica avviato nella comunità montana dell'Oltrepopavese da SST Pavia. Con questo piccolo apparecchio, collegabile allo smartphone, saranno un'infermiera a domicilio o gli stessi genitori o caregiver del piccolo, opportunamente istruiti, a rilevare dati e immagini che verranno poi controllati dal pediatra in servizio all'ospedale, in questo caso di Voghera. Secondo quanto ha riferito il direttore generale di SST Pavia, l'attivazione di un ambulatorio pediatrico strutturato per gestire la telemedicina presso l'ospedale di Varsi, oggi funzionale all'emergenza sanitaria, potrebbe diventare un servizio continuativo molto utile alla popolazione anche quando questa fase emergenziale sarà finita. È un'operazione importante che è stata portata avanti anche come comunità montana attraverso la strategia nazionale dell'area interna e ci sono importanti fondi proprio su questa partita, in collaborazione con la SST di Pavia e con l'ATS, con gli infermieri di comunità. Sicuramente questo servizio che viene dato dalla pediatria è importante proprio perché grazie a queste nuove tecnologie si riesce a non far spostare anche per visite e controlli di routine i nostri ragazzi, i nostri bambini di territorio, quindi questo è sicuramente molto importante. Un progetto di telemedicina simile ma studiato per gli anziani residenti nella comunità montana è stato inserito di recente nel programma di sviluppo aree interne, anche se non possono in alcun modo sostituire la visita fisica del medico in molte situazioni, se utilizzati correttamente gli strumenti oggi a disposizione permettono in molti casi, in particolare quando occorre monitorare frequentemente le condizioni del paziente, di evitare lunghi e dispendiosi spostamenti, a maggior ragione in aree come quelle delle comunità montane dove gli abitanti sono pochi, spesso con unità media elevata e sparsi su territori molto vasti e con collegamenti non sempre agevoli.